Musica Eccoci di nuovo assieme per Telebelluno Agenda Vediamo qualche attività per la giornata di sabato 3 marzo Musica Anche quest'anno 16 squadre di agguerriti baby calciatori si daranno battaglia sul parquet della Spess Arena in occasione del torneo di calcio a 5, quinto trofeo Martina Bonavera Protagonisti saranno i pulcini ma farla da padrone sarà ovviamente la solidarietà Il ricavato della manifestazione infatti finanzierà i progetti Asino Chi Legge e Fa Volando proposti dall'associazione Assi On Lus ai bambini delle scuole dell'infanzia e primaria Cambiamo argomento, adesso parliamo di un'altra iniziativa In occasione della festa delle donne il centro servizi del volontariato l'ISPREC e l'associazione Belluno Donna con il patrocinio della consigliera di parità della provincia di Belluno organizzano l'incontro pubblico dal titolo Corpi e conflitti Aspetti della condizione della donna nel Novecento L'incontro si terrà sabato 3 marzo alle ore 18 presso il Centro Culturale Piero Rossi in Piazza Piloni a Belluno E procediamo con le attività Continuano le proposte della Sala Teatro Rasai con per la stagione teatrale 2017-2018 in questa occasione con la commedia brillante dal titolo nel bel mezzo di un gelido inverno una commedia liberamente tratta dal film di Branagh per la Compagnia Teatro del Cuore di Feltre uno spettacolo teatrale che ha la regia di Roberto Fauro L'iniziativa avrà luogo sabato 3 marzo alle ore 20.45 presso la Sala Teatro Rasai a Rasai di Serena del Grappa in via Montegrappa 3 È davvero tutto per questa nostra edizione di TBD Agenda Appuntamento domani, arrivederci!